In un mese nelle eco-isole delle frazioni del Comune di Teramo è stato raggiunto l'82% di raccolta differenziata ed è un dato decisamente positivo per il Comune di Teramo. Assolutamente sì, è un dato che ci spinge sempre verso nuovi obiettivi. Quello delle eco-isole è un dato importante perché dopo una prima diffidenza nei confronti delle eco-isole in realtà poi c'è stata molta curiosità e gran parte dei cittadini corrispondenti alle eco-isole a loro riferite l'hanno utilizzata nella maniera corretta e soprattutto il dato complessivo dell'ultimo mese sulla raccolta differenziata si attesta tra il 72 e il 74% di raccolta differenziata. Sappiamo che chiaramente con l'aumento purtroppo dei domiciliati questo dato nell'ultimo periodo dell'anno sarà destinato necessariamente ad abbassarsi perché come sappiamo tutti in caso di positività conclamata bisognerà fare solo indifferenziato però comunque diciamo che è una condizione iniziale ottimale. E le eco-isole presto arriveranno anche in centro storico? Assolutamente sì, pensiamo di utilizzare questo periodo diciamo di chiusura delle attività per installare le eco-isole per le attività commerciali ad alta produzione di rifiuti nel centro storico, ne sono sei per il centro storico e in modo tale da togliere tutti i bidoni che sono destinati all'utilizzo della spazzatura. E i problemi che avete avuto inizialmente con le eco-isole ad esempio qualcuno che non era in grado di conferire rifiuti in maniera corretta ha anche rotto poi l'eco-isola, quei problemi lì sono stati accantonati, hanno imparato tutti ad utilizzarle? Diciamo che non solo grazie alle telecamere ma anche grazie ai sensori presenti all'interno delle eco-isole noi siamo stati anche in grado di intervenire dove ci sono stati degli errori commessi per non conoscenza del materiale da riciclare correttamente per cui siamo intervenuti. Ci sono state delle rotture, sono state sanate anche le rotture per un paio di eco-isole se non ricordo male delle 11 collocate nelle frazioni per cui tutti i problemi, quelli che vengono registrati si stanno sanando. C'è anche il problema legato a magari una mancata registrazione al ruolo Tari ma anche lì c'è stato un contestuale adeguamento per cui diciamo che ci riteniamo molto soddisfatti.